La strada, effettivamente i civitanovesi sono, sono le strade, c'è qualche civitanovese, sì eh, mi viene in mente quella scena di guerrieri della notte dove il tipo mette due bottiglie di vetro battendo e fa guerrieri, civitanovesi, giochiamo un po' alla satira Ti aspetto dopo la partita eh ragazzi, venite qua, al Caracoles